Un convegno sulle prospettive dello sport calabrese si è svolto nella sala verde della cittadella regionale a Catanzaro. Alla presenza di numerosi rappresentanti delle federazioni sportive regionali sono intervenuti Giovanni Nucera, consigliere regionale delegato allo sport, Maurizio Condi Podero, presidente del comitato regionale CONI e Sonia Tallarico, dirigente generale alla cultura con delega al settore sport. L'incontro, ha spiegato Nucera, nasce per riuscire a dare finalmente attenzione e strumenti allo sport in Calabria, un settore che negli anni è stato pressoché trascurato sia dal punto di vista finanziario che in termini normativi. Per tali ragioni, assieme al presidente Oliverio, vogliamo dare prospettive certe al sistema, sapendo che dal punto di vista economico sono del tutto insufficienti le risorse che in questo momento la regione ha messo a disposizione nei confronti delle federazioni sportive. È stato fatto poco finora, io da un paio di mesi, la delega, ci sono state altre difficoltà qui in Calabria che tutti conosciamo, difficoltà nei vari settori che il presidente Oliverio sta cercando di mettere a posto, difficoltà in un territorio che non riesce ad uscire da quella situazione che abbiamo trovato quando ci siamo insediati. Oggi ripartiamo dallo sport, lo facciamo con le associazioni, con gli enti di promozione sportiva, con tutti quelli che quotidianamente lavorano in questo settore. Lo facciamo e vogliamo condividere, vogliamo essere inclusivi per un'organizzazione, una programmazione che nella regione Calabria non c'è mai stata per la prima volta e di un percorso che vorremmo condividere con tutti che sarà già con questa prima fase a livello regionale ma con altre fasi a livello provinciale dove ascolteremo tutti le associazioni, gli enti di promozione, le federazioni sportive, il CONI. Dopodiché, se tutto va bene, tra settembre e ottobre abbiamo deciso col presidente Oliverio di fare una conferenza regionale sullo sport e gli stati generali dello sport che in Calabria non sono stati mai fatti. Diciamo che non c'è mai stato, è la prima volta infatti che un'istituzione ci sta convocando per tracciare le linee guida dell'investimento che si vorrà fare, immagino, per il futuro del mondo sportivo. Mi auguro che siano delle linee guida abbastanza concrete e che possono investire soprattutto su quelle che sono le esigenze primarie dello sport, come ad esempio l'impiantistica sportiva, la formazione e i tornei internazionali.